Weekend al cinema incontra Oliver Stone, sabato la chiacchierata con il regista di capolavori come JFK e Platoon. Intanto c'è stato un bel prologo a Lucca con un lungo incontro che il regista ha fatto con il pubblico e i giornalisti lucchesi. Sottoposto a un fuoco di fila di domande, il regista non si è sottratto, parlando anche dei collegamenti con un personaggio del suo film, JFK, ovvero Clay Shaw, con Liciogelli, e soffermandosi anche sul moralismo ipocrita degli americani, così lo ha definito, soprattutto in materia di sesso, in risposta a una domanda su Polanski e religione. Da noi un autore come Pasolini, ha detto Stone, non avrebbe mai potuto lavorare, sarebbe stato crocifisso o condannato all'insuccesso commerciale, che spesso negli Stati Uniti è una vera e propria forma di censura. La mia carriera è stato un lungo viaggio, anche faticoso, attraverso temi complessi. Sono molto felice di ricevere un premio che ricorda tutti i miei lavori e spero che rimangano nella storia del cinema. Quanto a Lucca è la mia prima volta, resterò qui in Toscana sei giorni con mia moglie e sono felice di vedere Lucca mangiare bene e bere bene. Oliver Stone è accompagnato nella rassegna del Lucca Film Festival da William Dafoe, che insieme alla moglie Giada Colagrande ha presentato anche il suo ultimo film. In primo piano invece nella giornata di sabato ci sarà Sergio Castellitto.